Il calcio in vista dell'ormai prossima scadenza del contratto di Federico Melchiorri in Forza Lancona fino al 30 giugno 2023, sempre più indiscrezioni di mercato lo vogliono al centro di diverse trattative con le squadre marchigiane. Se è infatti da giorni che si parla di una consistente offerta della Recanatese arrivata a disputare il playoff nella sua ultima stagione in Serie C, anche la Maceratese avrebbe avanzato la sua proposta nel tentativo di riportare il cigno di Treia nel club bianco-rosso dopo la stagione 2013 e 2012 che è quella che lo lanciò nel calcio professionistico. Dal calcio andiamo al volley, la Lube Under 20 di coach Rosichini batte il Modena per 3-1 e chiude la Junior League al quinto posto. La Cucine Lube Civitanova termina quindi la del Monte Junior League 2023 a testa alta. Gli uomini di Rosichini salutano la trentesima edizione del torneo con un successo in quattro set contro i parietà della Valza Group Modena nella finale per il quinto posto che si è tenuta all'Eurosuole Forum. Dalle volle andiamo invece al pattinaggio che è stato grande protagonista nel fine settimana di Pollenza. Vediamo. Eccoci pronti per la presentazione ufficiale di questi campionati italiani di pattinaggio che si daranno proprio a Pollenza il prossimo fine settimana. Sì, ci ritroviamo qui dopo dieci anni dall'ultimo evento che c'è stato nel 2014 e ci ritroviamo. Quest'anno però solo con le categorie maggiori quindi non avremo tutte le categorie come nel 2014 e sperando che il tempo ci assista siamo pronti. Diciamo che siamo pronti e abbiamo bene o male sistemato tutto e attendiamo i ragazzi. Diamo qualche numero, quanti partecipanti in tutto indicativamente? Abbiamo circa 250 partecipanti e avremo atleti importanti, atleti di livello internazionale, avremo anche atleti che poi durante la stagione invernale si spostano sul ghiaccio e probabilmente qualcuno parteciperà anche all'Olimpiade a Cortina, Milano-Cortina, quindi comunque anche un certo seguito da un punto di vista sponsorizzazioni, tutto l'aspetto insomma di qualcuno sta anche nei corpi militari, quindi speriamo di avere anche abbastanza pubblico insomma dalla comunità di Pollenza. Un campionato che capita anche con una ricorrenza particolare, i 40 anni della vostra associazione della Vivo in India. Sì, quest'anno celebriamo i 40 anni della nostra associazione, è un traguardo molto importante, soprattutto insomma è uno sport che non è facile, comunque è uno sport di seconda fascia, riuscire a avere un'anzianità così importante, non ci sono moltissime società che hanno 40 anni. La nostra amministrazione è stata felice di accogliere la proposta dell'Associazione Juvenilia, di candidarci ad ospitare questa importante edizione dei campionati nazionali di pattinaggio a rotelle, per un comune come il nostro ospitare manifestazioni di questo tipo è senz'altro un valore aggiunto in termini di presenza e di promozione del nostro territorio, di accoglienza di giro economico che si creano per le aziende, per i commercianti del nostro territorio. Quindi non ci possiamo candidare di sicuro ad ospitare manifestazioni dei cosiddetti sport maggiori, ma abbiamo un impianto su cui l'amministrazione ha sempre investito molto, non ultimo l'ammodernamento che abbiamo fatto, che è appunto la vista di pattinaggio Gilda Leoperdi, e cerchiamo di sfruttarla al meglio anche per tenere insieme un po' tutti gli interessi correlati che ci sono attorno all'organizzazione dei grandi eventi sportivi. Un altro vanto della nostra provincia, la pista di pattinaggio di Pollenza, ospiterà questi campionati nazionali? Sì, tra l'altro gli addetti ai lavori mi dicono che non sono molte nelle marche, ma anche a livello nazionale, piste come questa. Io ho visto l'impianto ed effettivamente è molto bello, funzionale, ottimo, tecnicamente mi dicono, quindi assolutamente un impianto che ci permette di ospitare appunto una manifestazione così importante come quella dei campionati italiani, ma soprattutto io sono contento come CONI, perché ancora una volta la nostra provincia, grazie all'attività delle federazioni, delle società sportive, e con l'assoluto sostegno da parte dei comuni e degli enti riesce ad organizzare manifestazioni di livello. Sono Xenia Ruccina nel torneo femminile e Janik Theodor Alexandrescu nel maschile i campioni del torneo Under 16 Tennis Europe Categoria 1 svoltosi sui campi dell'Associazione Tennis di Tolentino dal 27 maggio al 4 giugno. Otto giorni di tennis a livello altissimo, conclusisi appunto con due finali combattute e avvincenti, terminate entrambe al terzo set. Lasciamo il tennis per parlare di nuoto, si è chiuso tra gli applausi il saggio di fine anno della Salus Nuoto Matelica. In Vasca anche una bella esibizione del gruppo di nuoto sincronizzato che è stata molto apprezzata. Grande soddisfazione e ringraziamenti per le attività svolte dalla Salus Nuoto anche da parte dell'amministrazione comunale di Matelica erano presenti il vice sindaco Denis Cingolani e l'assessore allo sport Graziano Falzetti. Con la Salus Matelica si chiude anche il nostro sport news. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.